Questa sera ricordiamo la Pentecoste, la nascita della Chiesa, della prima comunità. La Chiesa nasce a Pentecoste quando lo Spirito riempie quella comunità dove c'era Maria, madre degli Apostoli, madre della Chiesa, e dove c'erano quegli discepoli che avevano seguito il Signore e che erano stati anche segnati dal loro tradimento e dal loro peccato. Ebbene, sceglie lo Spirito, cioè la loro vita, il loro cuore si riempie di amore, perché questo è lo Spirito, è l'amore del Signore che entra nella comunità e che entra dentro ciascuno. Tutte e due le cose, il cristiano non è mai uno da solo, è sempre legato ad una comunità, questa comunità che genera tanti uomini e donne pieni dell'amore di Dio e che comunicano l'amore di Dio e quindi non possono star chiusi. Infatti la prima cosa che succede a Pentecoste è che si mettono a parlare, si mettono a parlare lingue nuove e perché dentro sperimentano qualche cosa di nuovo, che è appunto l'amore di Dio e che fa dire cose nuove, che fa scoprire dei modi nuovi di parlare. E poi cominciano a parlare agli altri, ad andare incontro agli altri, a non averne più paura, o forse a vincere la paura con la vera forza del cristiano che è quella dell'amore. E tutti li sentono parlare nella propria lingua nativa. Questo significa generare alla fede, regalare questo amore, far scoprire l'amore del Signore in ciascuno e comunicare con quella lingua che tutti sentono vicino, che tutti sentono propria. Questa è la forza della parola di Dio, che è una parola di amore, per cui mi sento finalmente capito. Quante volte ci è capitato? Quelle parole le ho sentite per me, erano proprio per me. E da lì che io ho cambiato, ho incontrato qualcuno che mi ha fatto capire qualche cosa che magari avevo sempre visto, che sentivo, ma non mi dicevano niente perché poi è scattato l'amore. Ecco, questo è quello che siamo chiamati a comunicare ed è la festa di oggi, la festa del dono che è ciascuno di noi, che può essere ciascuno di noi per tutta la comunità, del dono che sono tutte le comunità perché è piena dell'amore di Dio. Quella che la veglia ci aiuti a contemplare questo, a vedere i tanti doni che il Signore già ci ha affidato e soprattutto, forti di questo amore, cominciare a parlare quella lingua che tutti comprendono, come la propria lingua familiare, la propria lingua nativa. Buona Pentecoste!